Ciao a tutti e benvenuti su Gossip Diva. Oggi parliamo di Giulia Salemi, che sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita. La showgirl, in dolce attesa del suo primo bebè insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, si sta godendo la sua gravidanza a New York, tra shooting di lavoro e passeggiate per la Grande Mela. Con il suo pancione in bella vista, Giulia non smette di incantare i fan con il suo sorriso smagliante e i suoi look sempre sbarazzini e audaci. La notizia più emozionante è stata rivelata durante una puntata di Verissimo, dove Giulia ha svelato che la cicogna porterà un maschietto. Con la commozione negli occhi, Giulia e la conduttrice Silvia Toffanin hanno condiviso questo bellissimo momento, mostrando un paio di scarpine azzurre che hanno confermato il lieto annuncio. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano già condiviso sui social l'annuncio dell'arrivo del loro primo figlio, mostrandosi emozionati sin dalle prime foto della gravidanza, dal test positivo fino alla prima ecografia. Entrambi sono pronti a vivere questo nuovo capitolo della loro vita con entusiasmo e amore. Giulia nel suo post ha scritto «Siamo pronti a vivere per te, mamma e papà», mostrando tutta la gioia e la gratitudine per questo dono così speciale». Tra i fan l'attesa era altissima e persino la mamma di Giulia, Fariba Terani, aveva mostrato scorci della cameretta del nascituro sui social, scatenando ipotesi sul sesso del bebè. Ora Giulia si sta godendo ogni momento della sua gravidanza, sia in Italia che negli Stati Uniti, dove ha regalato ai suoi follower panorami mozzafiato e dolci scatti con il suo pancione. Rimanete sintonizzati su Gossip Diva per tutti gli aggiornamenti e le novità su Giulia, Pierpaolo e il loro fiocco azzurro. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like e condividere il video.